musica ciao vite oggi ragazzi siamo qui tornati con un what on me iphone 777 gang oggi ragazzi voglio farvi vedere cosa sai del mio iphone 7 che ho comprato con i soldi della partner ovviamente perchè io sono una youtuber di quelle stra popular che guadagna tipo i miliardi e quindi arance oggi vi voglio far vedere no l'ho già detto vabbè lo diciamo così allunghiamo il video si lo posso dire si e si e così allungo il video così dopo so più soldi oggi passiamo a vedere cosa sai del mio fantastico telefono sai ragazzi su un'applicazione che costano tipo miliardi che voi mi permetterete vai perchè voi siete poveri io sono invece una ricca di quella che è madonna fermatevi tutti quindi niente ora ragazzi vi lasso al video che ho realizzato io stessa tranquilli tutti i video che ho fatto e edito li faccio io con le mie belle manine no non posso dire come li editano gli altri così siamo una vera ritardata non mi rompe io dico quello che mi fa ma questo è il video mio ma pensa che ora non te pago oh dopo è il titolo bene in sto video che taglia queste parti che madonna mazzetta le sottenti giuro eh giuro e dicevamo possiamo passare al video va che è meglio quindi niente gli mando un kiss e vi voglio ricordare di lasciare like a questo video raggiungiamo almeno i 50 mia like poi quando uscirà l'iphone 8 tranquilli che farò il whats on my iphone 8 8 8 8 quindi possiamo anche iniziare mi è appena arrivata una notifica youtube ti ha ben inviato ragazzi mi hanno appena pagato ma lo devo fare per forza sto video anche se mi hanno già pagato e niente cominciamo aha ok ragazzi eccosi qui tornati con il mio iphone questo ragazzi è il mio iphone 7 con questa custodia che non potete capire quanto caspita l'ho pagata che vi ricordo ragazzi che il sito per comprare questa cover a soli 449.99 euro lo trovate in descrizione e inserendo il codice tv.do.raccomandata riceverete l'1% di sconto su questa cover ma detto questo possiamo anche iniziare il mio iphone ragazzi come schermata oma questo bel figone qua che veramente oma mamma mia sto ragazzo è proprio da sto eeeh dicevamo allora il mio iphone si presenta così con del 36% perchè c'ha il 36% di batteria? io avevo detto che doveva rifare almeno al 100% per sbloccare il mio iphone ragazzi siccome il mio iphone è un iphone moderno basta fare così e opla eccoci qui nel mio iphone questa ragazzi è la mia schermata home dove c'è ancora questo bel figone che è marona fermatevi tutti allora la schermata home parte con la sezione messaggi la sezione calendario che io ragazzi non so contare quindi non so che caspita di numero sia questo comunque a parte a parte a parte a parte poi qua c'è la sezione foto si meglio uscire dalla sezione foto poi qua c'è la fotocamera che vabbè la fotocamera è la fotocamera molto figa non so le cose tecniche del sto iphone perchè boh mi fregava niente delle cose tecniche basta che era 9 perchè costava 2 miliardi di euro quindi l'ho comprato e vabbè andiamo avanti poi qua c'è la sezione mail perchè io non apro mai però vabbè poi qua c'è la sezione mappe che quando mi perdo se molto spesso è metodo causale poi ragazzi questa qua c'è questa applicazione chiamata medio che io posso controllare così se c'è il sole o meno si perchè non me vado a affacciare la finestra e vedere se c'è il sole oppure se sta a piove poi questa è la sezione orologio orologio che ripeto io non so neanche contare quindi non so in questo momento che ore siano quindi vabbè avete capito cosa è questa applicazione chiamata borsa io ragazzi ogni tanto sono pronta a mettere tipo i cuffietti e il rossetto però niente sono rossita non capisco veramente coi caspita funzioni queste applicazioni secondo me è rotta poi ragazzi è questa qua che c'è scritto che c'è scritto questa questa che non so che caspita serve io non l'apro ma cosa è questa vabbè qua si scrive le cose segrete su sto ragazzo che è stupevole questo libro memoria tipo quando è che devo via i soldi quando è che andiamo a ritirare in banca poi qua si ha i junes che aporazzi io uso spotify che qua ho spotify vedete che qua io uso la musica mia questo ragazzi è il mio account spotify se volete seguirmi questo qua è il nome della playlist quindi se volete ascoltare la musica che ascolto io ascoltatela però ragazzi vi ricordo che per ascoltare la mia musica dovete pagammi almeno 5 euro a canzone se no non vi faccio ascoltare la musica mia e vi denuncio poi questa è la sezione salute che io ogni volta che la leggo rispondo grazie e infine c'è l'opzione impostazioni che non lo so poi ragazzi passiamo alle cose serie la mia cartella contiene prozap, postbook, instagram questo coso ragazzi che nessuno conosce che si chiama teamspeak musical.ly coso qua per controllare i soldi che mi arrivano ogni mese poi c'è youtube con tutte le notifiche qua vedete? mamma mia poi qua c'è tumblr dove posto tutte quante le foto tristi quelle depresse vabbè quando non me paga a partner oppure me paga però in ritardo oddio ma appena cascato il telefono coso è questo ragazzi che è una cosa veramente assurda veramente io adesso vi metto questo suono guardate se l'ho spaccato i timpani che divertente vabbè qua potete mettere tutti quanti i suoni quelli fichi quelli belli belli coso è questo che si chiama house coso e niente può fare video call con tanta gente vabbè mi frega niente non ne so poi se sto coso scalda mani ragazzi quando fa freddo basta che ti metti così con l'iphone e ti scalda le mani questa applicazione è veramente top poi se sta questo questo e questo questo ragazzi serve per fare live dove voi mettonate che io vi ho i sordi ogni santo giorno poi ragazzi passiamo alla seconda cartella che si chiama foto e video qua ragazzi sta soltanto questo questo e questo non so che caspia servono però boh andate installali tanto per avere più applicazioni sul telefono e infine sta questa cartella qui che c'è sta a bussola che non so a che caspia ne serve poi stanno i suggerimenti che guarda grazie non mi servono troppo intelligenza non mi servono i suggerimenti di un stupido telefono e poi stanno i contatti dove stanno tutti quanti i contatti dei youtuber quelli popolari quelli la ragazzi siete presenti tipo youtuber popolari eeeh questi sono tutti i contatti poi trovo amici questo ragazzi quando mi sento sola faccio ah trovo amici e trovo tutti quanti gli amici miei trovo il mio iphone ragazzi anche se non capisco l'utilità perchè veramente no io so il telefono qua che caspia deve fare bene trovo il mio iphone quando sono in mano tipo ogni tanto lo uso no quando mi scordo faccio quanto sta il telefono andiamo un po' a controllare trovo il mio iphone e poi mi accorgo di avere il telefono in mano vabbè a parte questo poi se sta la calcolatrice che mi serve per calcolare quanti soldi dobbiamo in mese no ragazzi l'applicazione è top perchè però tu vuoi fare degli scherzi tu metti il numero della persona che vuoi fare lo scherzo a questo qua gli arriva una telefonata del tipo pronto scusi ma per caso mi sta rubando il wifi poi se è l'amico mio che risponde oh ma che vuoi ma fuori se non potete capire veramente ogni volta se muoio queste cose e infine se sta il telefono appunto per telefonare ah 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 e poi se è spotify come vi ho già detto se volete ascoltare la mia playlist 5 euro a canzone se è zmail dove arrivano tutte quante le mail delle fatturazioni del pagamento e infine c'è il safari e no 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 ragazzi no 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 non avete visto niente cioè non e niente questo era tutto ora vi lascio all'outro vi ricordo che questo iphone ragazzi l'ho comprato a soli 999 euro e 99 e niente questo era tutto e spero che questo video vi sia piaciuto e adesso vi lascio all'outro ragazzi spero che questo fantastico video vi sia piaciuto se no se non gli è piaciuto siamo andaggiate la denuncia cioè non si può denunciare vabbè troviamo un modo comunque per eliminarli perché so persone inutili vi senamo se vi è piaciuto questo video ragazzi mi raccomando lasciate anche un bel like arriviamo a 88.000 likes per questo video consigliati alla prossima settimana ragazzi vi porto il what's on my iphone 999 ok che non è ancora uscito però raga io so raccomandata io sono io quindi io posso avere tutti gli iphone che voglio ok ah e niente ragazzi adesso vi mando un kissino e niente ci vediamo al prossimo video ciao ah che passi do no niente mi sono scordata haha ciao 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 ciao